Buongiorno ragazzi e bentornati. In questo video vedremo le prime derivate di somma, differenza e prodotto di funzioni. Per partire volevo fare uno schemmino riassuntivo di tutte le formule che abbiamo fatto nei video precedenti in modo da poterle raccogliere tutte insieme e con quelle poter lavorare. Iniziamo a riempire la prima colonna. Abbiamo visto che data una funzione y uguale a costante la derivata prima è 0. Abbiamo visto come la derivata di una funzione k per x ha come derivata prima k. La generalizzazione k per x elevata alla n quando derivo il k rimane lì, moltiplica n e poi abbiamo una x ad esponente n meno 1. Inoltre se abbiamo una funzione k fratto x elevato alla n la posso vedere anche come k per x alla meno n e quindi stessa formula di prima meno k per n per x alla meno n più 1 che può essere portata poi a denominatore e aumenta quindi di 1 il grado del denominatore. Abbiamo visto anche le radici ennesime, la formula è y primo uguale a 1 fratto n per la radice ennesima di x elevata alla n meno 1 e nella seconda colonna vi ho riportato quelle che abbiamo fatto nel video precedente. La funzione esponenziale che derivata alla x rimane se stessa, la funzione a alla x che derivata fa a alla x per il logaritmo in base e di a, il logaritmo naturale di x che derivato fa 1 fratto x e il logaritmo invece con base diversa da e. Inoltre la funzione seno che derivata dalla funzione coseno e la funzione coseno che derivata dalla funzione meno seno. Nella seconda colonna vorrei scrivere oggi le prime tre regole di derivazione che ci permetteranno di lavorare con delle funzioni un attimino un po' più divertenti come somma, prodotto, le funzioni che siamo abituati a vedere. La prima non la dimostreremo, non ricaveremo la formula della prima, è abbastanza banale. Se io ho y uguale a una costante che moltiplica una funzione, la derivata sarà data da quella costante per la derivata della funzione. Le due che vedremo oggi e che andremo a dimostrare sono la seconda e la terza, cioè y uguale a f di x più o meno g di x e vedremo che la formula sarà data da f primo più o meno g primo di x. La terza invece è quella del prodotto. Per quanto riguarda il prodotto, se io ho f di x che moltiplica g di x, la formula della derivata sarà la derivata della prima funzione, quindi f primo di x che moltiplica la seconda invariata più la prima, la riscrivo così com'è, per la derivata della seconda g primo di x. E su questo faremo anche un po' di esempi in questo video. Nel prossimo video vedremo la derivata del reciproco, la derivata della frazione e anche la derivata delle funzioni composte. Ricaviamo quindi la formula di derivazione per la somma di funzioni y uguale f di x più g di x. Applichiamo il limite per h che tende a zero del rapporto incrementale per la nostra funzione e verrà f di x più h più g di x più h, dopodiché potremo entrare nel vivo e poter derivare qualunque tipo di funzione ci venga data. Il tutto fratto h. La dimostrazione è abbastanza semplice, basta spezzare in due questo numeratore e rimane f di x più h meno f di x, quindi tengo il primo e il terzo termine e poi dall'altra parte riscrivo il secondo meno il quarto termine. Adesso penso che ormai siete abbastanza bravi, avete riconosciuto ragazzi che cosa abbiamo di fronte. Il primo termine, questo è proprio un f' di x e il secondo termine invece è proprio un g' di x. Se invece avessimo avuto a che fare con la differenza di funzioni, se ci fosse il meno lì, allora avrei avuto un meno qui nella prima parentesi quadra e un meno nella seconda e raccogliendo avrei avuto un meno tra le due frazioni e quindi un meno nel risultato. Siamo pronti a dare la formula generale che dice y uguale somma o differenza di funzioni, la derivata di questa funzione è la somma o la differenza delle derivate. Facciamo subito qualche esempio. Se noi scriviamo, prendiamo già qualche funzione fatta da somma o da differenza unendo le formule che abbiamo visto nei video precedenti. Quindi la mia funzione è y uguale a 2x alla terza meno 4x più 1 su x. Come secondo esempio prendiamo la radice di x meno 5x quadro più 1 fratto x2. La prima derivata verrà la derivata di 2x alla terza, butto giù il 3, quindi scrivo 6x al quadrato. La derivata di meno 4x ho di fronte la derivata di un kx, quindi mi rimane k, mi rimane meno 4 e più 1 su x nella mia funzione diventa x alla meno 1 e quindi derivato butto giù il meno e mi ritrovo a denominatore un grado in più, quindi x al quadrato a denominatore. Per il secondo esempio invece ho la radice di x, quindi 1 fratto 2 per la radice di x, meno, butto giù la potenza, il 2 davanti e lo moltiplico per 5, quindi viene meno 10x. Stessa cosa di prima per 1 fratto x2 mi rimane un meno 2 e a denominatore alzato di un grado x alla terza. Vediamo ora invece la regola di derivazione per il prodotto di funzioni, quindi ho a che fare con una funzione y uguale a f di x per g di x. Scriviamo il limite del rapporto incrementale dove vediamo il prodotto delle due funzioni con x più h meno f di x per g di x fratto h. A questo punto ci tocca fare un po' un magheggio che a noi piace tanto. Scrivo il primo termine così com'è, ricordiamoci che vogliamo raccogliere, vogliamo riuscire a creare delle derivate perché sappiamo che nella formula finale ci sarà un f' e un g'. Separiamo questi due termini all'interno, sommiamo e togliamo una stessa quantità f di x più h per g di x meno f di x più h per g di x. In questo modo raccogliamo tra i primi due termini quello che hanno in comune, quindi il primo nero e il primo rosa, e ovviamente io metterai in evidenza quello che hanno in comune che è f di x più h. Cosa mi rimane in frazione? g di x più h meno g di x fratto h più. Raccogliamo quello che hanno in comune il g di x e gli altri due termini, il terzo e il quarto. Mi rimane f di x più h meno f di x fratto h. Ma il gioco è fatto ragazzi, perché la prima frazione che moltiplica l'f di x più h che per h che tende a zero è f di x, non è altro che un g primo di x più il g di x e l'altra frazione che diventa f primo di x. Questo è un f primo che stiamo sottolineando in arancione, questo è il mio g primo e con h che tende a zero siamo pronti a dare la formula finale della derivazione del prodotto di funzioni. Quindi se parto dal prodotto di due funzioni f per g, la regola della derivata prima sarà derivo il primo termine, riscrivo moltiplicando il secondo, più il primo termine non derivato per il secondo derivato. Vediamo subito qualche esempio. La prima funzione. Io ho la parentesi che moltiplica e di x. Scriviamo subito da parte i quattro termini che dovrò scrivere. Un f primo per g più riscrivere la f per g primo. Iniziamo. Derivo la prima parentesi, quindi viene 3x2 meno 2. Riscrivo la g così com'è e alla x più riscrivo la prima parentesi senza fare niente, quindi x alla terza meno 2x come da testo, per e alla x. Stessa cosa facciamo con la seconda. Derivo la prima, quindi il seno diventa coseno di x, per lascio stare il logaritmo di x, più riscrivo il seno così come da testo per derivo il logaritmo naturale che fa 1 su x. Questo è il mio f primo, questo è il mio g, questo è il mio f e questo è il mio g primo. Prima di lasciarvi però voglio fare un'osservazione. Questo procedimento di formula per derivare il prodotto vale anche se io ho una funzione data dal prodotto di tre funzioni. Non sto a dimostrare la formula, la scriviamo solamente e poi vediamo subito un esempio. Quindi la mia funzione è fatta da f di x per g di x per h di x. Allora ragazzi, io che cosa faccio? Derivo la prima, f primo, per riscrivo così come sono le altre due, più scrivo la prima e la terza e derivo la seconda, più scrivo la prima e la seconda e derivo la terza. In questo modo posso poi andare avanti anche e trovare la formula per un prodotto a 4. Facciamo un esempio, se io ho un e alla x che moltiplica un sen x che moltiplica tra parentesi un 3 x quadro meno 1 su x, allora deriviamo e alla x che rimane se stesso e riscriviamo gli altri due termini così come da testo dell'esercizio. Più, devo derivare il secondo, quindi vuol dire che riscrivo il primo e riscrivo il terzo così come sono. Derivo il secondo e la derivata del seno è il coseno di x. Riscrivo le prime due e moltiplico per la derivata della terza parentesi, 6x più 1 fratto x2, quello in più ragazzi. Con questo abbiamo finito. Nel prossimo video vedremo ancora la formula per derivare il reciproco e il rapporto di due funzioni e poi siamo quasi pronti per derivare qualunque tipo di funzione. Continuate a seguirmi e buona matematica!